L'idea funziona, sarà facile, per ricominciare a vincere in Coppa e poi ricaturate. Questo è, che se può fare altro? Che figura di merto. 4-0 con l'Odinese. L'ho preso il gol dopo 5 minuti per il ruolo di Karzorp. Poi su 1-0 c'è anche il rigore. Probabilmente se lo avessi dato, probabilmente la storia sarebbe cambiata. No, lo so, probabilmente sì. Poi prendi anche il 2-0. Sempre su errore. E se ne ha preso il 3-4-0 per il ruolo dei nostri. E' uscito pure Abram, speriamo niente di che. Comunque raga, stasera è la Roma, non c'è stata. Quando eravamo, sembrava che la porta era stregata. E' fastidiosissima, infatti prendi il gol del 3-4-0. Per quanto riguarda questo, per quanto riguarda gli errori, sono la media, poi adesso non è proprio il solo di lui. Adesso ha fatto gli errori tecnici, anche lui, ma che li apra. No, niente da dire comunque. Adesso non mi escono le parole, magari domani farò un altro video. Comunque raga, sempre e comunque forse Roma. Ciao ragazzi.